Musica Mister Cormaggio una vittoria sudata oggi ma era importante, questi tre punti erano importanti? Sì erano importanti, sapevamo che non era facile trovare la giusta concentrazione perché se uno va a guardare la classifica pensa che loro siano una squadra matrasso, non è così perché tutte le partite che hanno perso, il Palizzi devo dire la verità hanno perso sempre per pochi gol, quindi non hanno mai preso goleate, questo ci deve far riflettere perché capisco che dopo la vittoria con l'Ateliese inconsciamente ci possa essere un calo mentalmente, anche perché in virtù del fatto che noi non ci siamo riposati proprio però c'è da dire che dovevamo vincere, ci siamo riusciti e meno male perché sarebbe stato un delitto non uscire da questo campo con i tre punti. Diciamo che l'entrata in campo di Tripodi e di Mallimaci ha portato un po' più di verba al borgo grecanico oggi? Di solito chi subentra è sempre sul pezzo quindi è normale che sia così, però c'è da dire pure che noi abbiamo preso gol sul non un tiro in porta quindi è pure vero questo, anche se loro giustamente qualche occasione l'hanno creata ma penso sia normale. Se noi pensiamo che i nostri avversari non devono superare il centrocampo non è così, poi mettici pure la convinzione sbagliata di aver vinto la partita prima di giocarla, non è così. Il campionato è difficile, ci aspetta un giorno di ritorno difficile anche perché tutti vengono a fare la partita della vita contro di noi. Se tu hai visto alla fine anche il portiere è venuto in aria, tipo si giocassero la Coppa Campioni, ne prendiamo atto perché è normale che tutti giochino alla morte contro di noi. Sì, è importante comunque, devo dirlo, il borgo ora ha sei punti in più. Domenica prossima c'è la Scillese che ha ottenuto un solo punto in 13 partite. Mister, si prospetta un gennaio in discesa? No, se noi ragioniamo come oggi non portiamo punti da Scilla secondo me invece. Proprio questa partita ci deve insegnare deve essere da monito proprio perché siamo passati forse subito in vantaggio, troppo presto. E quindi abbiamo pensato già, vabbè, ok, è fatta. Per poco loro fino all'ultimo secondo hanno avuto la palla per poterci pareggiare. Non è che hanno avuto un predominio oppure magari uscirà che per i nostri ultras, anzi no, per i nostri contras, come direbbe Domenico Salvatore, che il palizio è venuto a dettare le leggi qua. Non è assolutamente così, abbiamo avuto le nostre belle palle gol, ci è stato annullato un gol secondo me regolare su Nunzio Martino. Ad onore del vero loro hanno preso un palo su una nostra dormita, però credo che la vittoria sia legittima alla fine perché in virtù delle palle create per il gioco espresso e per tutte le occasioni che abbiamo avuto. Mister, c'è qualche novità in entrata? Sì, sì, abbiamo un ragazzo di colore che è un amico d'Obinna che credo che verrà a darci una mano e quindi ora stiamo valutando tutto il da farsi e poi... Vedremo poi dopo di chi si tratta. Sì, è una sorpresa. Grazie mister. Palizzi sconfitto ma c'è qualche cosa da dire, anzi da ridire, ora sentiremo Raffaele Merigo, dirigente del Palizzi, avete messo in difficoltà come con Rosarno d'altra parte la capolista, senza timori reverenziali. Sì, abbiamo fatto una buona partita, anzi un'ottima partita direi, anche e soprattutto per il motivo che eravamo rimaneggiati, molto rimaneggiati, siamo venuti a fare questa partita, questo recupero con gli undici effettivi, ma già negli undici effettivi c'era Nino Tolitano, Peppe Palermiti e Giandrea Criseo, il nostro mister, tutti e tre avevano degli acciacchi. In effetti Nino Tolitano ha giocato quasi per tre quarti della partita, sempre toccandosi linguine, perché ha un problema linguine da diverso tempo, ma nonostante ciò abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo stati colpiti a freddo nei primi due minuti con quel gol su quel bel taglio di Peppe Foti, che ha mandato in porta il suo attaccante, che ha trafitto Molla, ma poi abbiamo avuto un'ottima reazione. Giocando alla pari con il Borgo Grigalico, che merita la posizione che occupa, anche perché ha giocatori di livello. Il Borgo la merita, ma il Palizzi non merita questa classifica, anzi? Sì, non la merita, ma purtroppo sono annate. Tu Domenico lo sai, hai calcato i campi di giochi per tanti anni, quindi lo sai. Quando è un'annata no, è un'annata no. Abbiamo molta sfortuna, molte volte abbiamo peccato noi, ma spesso c'è stata anche molta sfortuna. Stessa occasione di oggi nel palo di Autolitano. 9 su 10, quando colpisce la base interna, finisce in fondo al sacco. Certo, e anche con l'azzaro ci è successo così, un palo interno attraversa tutto lo specchio della porta e non va in gol. E l'annata, l'annata quando nasce storta, alla fine finisce sempre male. Speriamo di no, speriamo di fare un ottimo giro di ritorno. Noi ci impegneremo come al solito, come facciamo con tutte le squadre. E se pensi che i nostri punti sono arrivati, uno col Cinque Frondi, l'altro col Rosarno, un altro con la Propellaro. E quindi oggi è mancato magari questo pareggio, ci poteva anche stare, con il Borgo Grecanico. Quindi su sei punti, tre punti sono stati ottenuti con delle ottime squadre che sono tutte là nel vertice della classifica. Noi purtroppo siamo nei bassi fondi, ma cercheremo in tutti i modi di poter risollevare le sorti di questa squadra. C'è tutto il girone di ritorno, con i galletti di primo canto, con Alucce, Speroni, Artigli, Cresta, ma anche dinosauri come Mafrici. Sì, Mafrici ha fatto una partita sontuosa oggi, l'hanno vista tutti, voglio dire, ha fatto all'età che ha disputato un'ottima partita, da otto direi. Comunque, visto l'incontro di oggi e la gara disputata dai ragazzi di oggi, nonostante durante questo periodo di feste si sono allenati pochissimo, lo devo dire, si sono allenati pochissimo, speriamo che questa partita gli sia di esempio anche a loro stessi e capiscano che naturalmente il Palizzi, i giocatori per poter fare un ottimo girone di ritorno ce li ha e speriamo che la debba in data ogni tanto ci sia anche favorevole. Prossimo turno? Prossimo turno in casa, la prima di ritorno con il Cinque Frondi e poi dopo successivamente con la Bovese. Partite difficili, sempre con squadre di alta classifica, ma noi ce la giocheremo con tutti quanti. Speriamo di recuperare al meglio Nino Tolitano perché purtroppo non può giocare tutte le settimane con questo problema a linguine, ma purtroppo non possiamo farne a meno. Nonostante tutto però è stata una spina nel fianco della difesa locale. Sì, appunto, lo dico proprio per questo, è un Nino Tolitano in forma senza alcun problema, è un Nino Tolitano che lo hai per 92 minuti e in 92 minuti è una spina nel fianco di tutte le difese. Purtroppo quando poi ce l'hai a mezzo servizio, nonostante sia sempre pericoloso, poi arriva il punto che bisogna sostituirlo. Comunque speriamo nell'avvenire. Il Palizzi c'è in attesa che la Dea Bendata gli dia una mano. Certo, speriamo che anche noi saremmo baciati prima o poi da questa Dea Bendata. Ti ringrazio Dovene. Commentiamo, sentiamo la voce autorevole del direttore sportivo del Borgo Grecanico-Meritese Vincenzo Napoli, Ceggio Pegliavici. Grazie per il titolo di autorevoleità. Comunque avevamo già messo in conto che era una partita particolare perché quando ci sono queste partite a qualsiasi livello, che sia Serie A, sia prima categoria, si sa cosa si può andare in conto. Poi abbiamo avuto pure la fortuna di segnare subito, quindi ci siamo complicati la vita sia per la partita sia per aver segnato subito. Quindi c'è stata un po' di superficialità in qualche momento. Poi loro hanno segnato, oppure perlomeno abbiamo segnato noi sull'autorretto. E quindi poi siamo stati bravi insomma a tenere la partita, a gestirla. E tre punti meritati, che con i tre punti di prima sono sei. Era l'obiettivo che ci eravamo prefissati per questo girone di andata, avere sei punti di vantaggio sulla seconda. Sotto l'albero di Natale avete trovato sua maestà Peppe Foti, signore personale del centrocampo, ma non finisce qui, se abbiamo capito bene. Ma diciamo che stiamo cercando di incontentare nel miglior modo possibile la piazza sportiva e calcistica di Meldo Portosalvo. Abbiamo fatto prima questa strada degli acquisti mirati, che hanno dato il loro contributo fino a un certo punto. Poi è capitata l'occasione di Peppe Foti e giustamente essendo meritese d'occhio non ce la siamo fatta spuggire, anche perché ha portato a molta qualità al centrocampo. E adesso contiamo di fare un regalo della Befana a tutta la piazza sportiva di Meldo. Abbiamo concluso, siamo quasi ai dettagli finali, con un grosso e bravo calciatore che darà un grandissimo contributo. Possiamo brindare con Don Perignon? Stappare la bottiglia lo stapperemo quando è la prima partita che giocherà. Adesso andiamo a Caudi, siamo già all'80% della conclusione del tesseramento. Se non è la prossima settimana, l'altra prossima contiamo di averlo in campo. Se i punti di vantaggio autorizzano un certo ottimismo? Ma adesso dobbiamo essere bravi perché sulla carta, in campo, dovremmo giocare tre partite contro le squadre che non sono i primi posti. In più, già domenica prossima ci saranno degli scontri diretti. E noi da questi scontri diretti e da queste partite, alla nostra portata, dobbiamo cercare di trarre altri benefici. Gli altri benefici, noi dobbiamo riuscire ad arrivare a 10 punti di vantaggio già dal primo sconto diretto che avremo quando andremo a 5 fronti. Quella vecchia volpe dei campi di gioco di Giandrea, Criseo, per commentare questa partita. Sì, diciamo che siamo venuti qua con l'obiettivo prima di tutto di fare una bella figura alcistica contro una squadra che non la nascondo io. Deve vincere il campionato, si è rinforzata e sull'area dell'entusiasmo a giocatori di categoria superiori. Noi oggi abbiamo dato conferma che siamo una squadra, non dico, non siamo da penultimo posto perché comunque abbiamo dei bei giocatori. E merito va anche a loro che hanno voluto questa squadra e tutti i giocatori del Palizzi. I ragazzi del Palizzi a costo zero e una prima categoria a costo zero non è facile trovarla. Merito anche del mister che ha saputo inculcare la mentalità giusta per giocare fuori casa con carattere e personalità nella Fossa dei Leoni. Sì, grazie. Diciamo che abbiamo bisogno un più di allenamento perché comunque l'allenamento è sempre poco. Siamo partiti un po' a rilento e adesso i ragazzi stanno seguendo alcune indicazioni mie. Per finire questo campionato con dignità è sempre come, io dico sempre che non c'è mai fine, quindi c'è la possibilità attraverso i play-out di salvarsi. Io ci credo. Oggi Almaro Simone ha dimostrato di avere una dignità che sposta le montagne come quella di Jean Valjean, il protagonista dei Miserabili, dei Pictori Guo. Sì, sì. C'è anche la consapevolezza dei mezzi tecnici, agonistici, atletici per poter risalire la corrente. Sì, perché non dimentichiamo che nella nostra squadra ci sono tanti giovani che secondo me vanno lanciati perché nelle nostre zone ci sono tanti ragazzi forti e quindi vanno lanciati e devono giocare. Diciamo che Roberto Mancini ha fatto ritornare la voglia di pallone. Palizzi era una delle cattedrali del calcio dilettantistico ai tempi dei Zituri di Zema. Io diciamo che queste storie non le so perché sono di bova marina, però ho saputo qualcosa, ho sentito di questi fatti. Comunque il Palizzi merita di rimanere in prima categoria, nelle parti che abbiamo fatto. Comunque è doveroso fare complimenti al Borgo che al di là di tutto è una scuola forte che ha fatto un'ottima partita, ha sfiorato avanti i gol. Anche se noi potevamo anche alla fine pareggiare, ci poteva stare. Stare non ci stava, però per noi era un buon pareggio. L'anidiata dei galletti di primo canto con la cresta, le alucce, gli speroni e gli artigli. Hermes Lory ha un fan prodigio del calcio locale che ha meritato anche nel campionato di eccellenza regionale calabrese nelle file del bocale. Poi Gabriele, quasi un bambino, Gabriele Candido, classe 2004 mi pare, 2003. E' stata una bella partita, siamo entrati bene, purtroppo sbedo già un gol, dai, un gol già fatto. Bella palla di Gabriele, è stata un'ottima partita combattuta. Avrebbe potuto tirare lui, perché l'occasione era giusta, la palla era giusta, però in un eccesso di altruismo come Bottini nel libro cuore di Edmondo De Amiges. Sì, potevo tirare in porta, però ho preferito darlo al compagno ed è andata così. L'occasione giusta per fare gli auguri agli sportivi. In che senso? Auguri di buon anno. Ah, auguri di buon anno, seguiteci tutti i meritoti, che è una bella realtà quello che stiamo facendo. Seguiamo la società perché sta facendo qualcosa di importante.